Qui ci sarà spazio per dare voci alle opinioni della gente. Qui vogliamo provare a capire come stanno davvero le cose. Diciamoci la verità, qui si può parlare, ascoltare, riflettere, capire, cambiare. Questa è la fabbrica dell'opinione. Libertà di parola, lunedì 2 aprile alle 21, su Canale Italia 83. Vi aspetto. Grazie.